a che cosa facciamo danno cioè che cosa usiamo per far danno c'è che cosa usiamo per far male curco donno lol lol flauto regala vetta l'ho sparata su uno scalino l'ho sparata su uno scalino ah io mi butto subito qua cerco di fare il prima possibile basta 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 mi prego basta no basta porco oh dove va tre minuti dove vai dove va niente oh questo non lo riesco ad uccidere ma come cazzo è possibile adesso mi trigger è quanto è vera la è la seconda volta che gli faccio il colpo del titano e lui mi uccide giorno col pompa gli accarezzi mai la certo tutti i giorni di alza la voce li ha non ti sentono sono un po maldestra mi metto sempre dita degli occhi volete vedermi con i capelli avvicinati così ecco e dentro cosa c'è ombra guarda un po che c'è dentro britta guarda un po che c'è dentro no scherzo non c'è niente è vuoto è vuoto però è molto capiente dovrebbe esserci questa è una oddio ma questo costa scarlatta ma ma non lo sentite sotto tarada 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 ma mi sto rompendo il cazzo io per lui ma non è scarlatta ho sempre odiato non mi è mai piaciuta mai allora adesso lui si rimetterà a sparare vedete guardate adesso lui si mette lì a sparare il tre devo fare il tre devo fare il tre mettila tu mettila tu ma vatta a comprare guarda aspetta eh ora gli faccio la finta 23 30 e mezza di grind ancora e ma conta che dobbiamo ancora infondere la roba e tutto dobbiamo prenderci 15 minuti leghi dai sono il boss andando a prendere le taglie vai di ma vai di ma per tutta la musica poi c'ho più un cazzo sono l'ultimo terzo no non ho più un cazzo da spararli fai blacky vado 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 vai ma con la scena mori mori vuoi provare in sovraimpressione a fare le carezze al fossa è tosta la smetto di parlare per un singolo istante dalle 13 però anche ieri notte abbiamo fatto dal da mezzanotte aspetta ciao fra birimiri birimiri dai siamo a 513 iscritti grazie ragazzi grazie a tutti andrea ma che cazzo ha scritto what the hell cazzo è stato era una pecora dio che paura cos'è o the ring manca il gioco quindi destiny 2 a retire cane o ma si può fare un discorso serio col cane maledizione non è in più farsi si rompa solo scusa what quando smutarsi nel momento sbagliato c'è la musica così vuol dire che vuol dire che faccio cagare lei aspetta io stavo pulendo ogni attimo abbiamo le coppie giusto aspetta un attimo abbiamo le coppie giusto io e serpe converetto a vaffanculo ah ma io sono mutato parlo da solo voi mi parlate sopra convinto che mi stavano andate in giro a dire che ve l'ho detto io però se vai da un drogato gli chiedi com'è la droga lui che ti risponde buona no la troca l'armatore di calus funzionano oddio inception raga inception po' che ti canto una canzone plagiamenti pesami tarattarattaratt basta oh the fuck ho poco ci vogliono i cinque what vi sfido a incastrarvi con l'astore questa è una doppia la 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 sento un audio sento solo l'audio sembra un pornazzo oh ciao diego aggiunta a naturalmente shadow key che cazzo elia ma che scherzo è leva cos'è così scarafa ma che dai leva dai leva ma che schifo dai che schifo oddio clippate ho ucciso l'arpia con l'astore top mai successa sta roba raga la ti becco aspeh quando la magliarda si triggera e non ti spara più lo spari con il pompa si triggera inizia a vibrare tutta faccia come fa non possiamo swapparci il buff tra di noi vado sotto vado sopra Giorno a te come... WTF Che cosa è successo? Mi ha rubato la store, il macchinario! Hai visto? Cosa? Che cosa è successo? Se l'hai portato via! Non avete preso quello sopra allora? Perché non ci siamo anche noi lì a giocare, che primavera gli succesi stream di The Legion 2 eh? Black, non rompere il cazzo! Oh, boh il problema sono le granate che curano, mannaggia a quello eh! Ha ragione chi era, ha ragione già, è già mitico! Mi ha ricordato cazzo, non lo uso neanche! Ho dormito poco raga, scusate! Vabbè, che facciamo? Eh raga, scusate, eh beh, mi triggerano! Mi, 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 mi! Che cosa sarebbe questa? Arrivare al... Al softcap che... Oh, mi stanno t-baggando in torre, ma WTF Cos'è sta storia? E allora? E allora? Uno non può un attimo rimanere in torre, fermo! Così vicini! Come muoio male con la vetta! La vetta mi fa molto male! Ah, la vetta! La vetta dai, è un po' come il bobina! La bobina è stronza allo stesso modo! Perché non mi si sta baffando? Che cazzo è? Ma perché io muoio a cazzo di cane? Cioè, ma chi mi ha ucciso? Dai, uno face, uno face! Nooo, niente sub! Niente sub! Niente sub! Io sono morto come? Non lo so, regà! Clippate, perché io voglio che ho clippo di io! Mi clippo da su... Let's get it, boy! Oh, regà! Let's get... Oh, let's get it! Let's get it! Come on! Yo! Vieni con me, amico! Vieni con me! Ti faccio vedere il cielo azzurro! Ok, mamma! Perché vogliono espelle sto qua? Uraccio, no! Sono un deficiente! Non so se il matchmaking dura meno di quello di Anthem. Ho detto!